Ciao a tutti e bentornati sul canale E beh, Lego, proprio Lego, mi ha inviato questo pacco che contiene uno dei nuovi set Lego Harry Potter del 2020 Collaborare con un marchio del genere per me è un onore assoluto Il mio canale non è grandissimo e quindi ringrazio Lego ancora di più per aver avuto fiducia in me e avermi inviato questo set che vedremo tra pochissimo insieme Lego sta sfornando tantissimi set a tema Harry Potter, trovate i più piccoli come ad esempio la stanza delle necessità, quelli medi fino ad arrivare a quelli più grandi Mi viene da pensare al castello di Hogwarts o addirittura l'ultimo set uscito, Diagon Alley Quest'ultimo mi fa letteralmente impazzire Pensate che i set che personalmente preferisco sono proprio i modulari, quindi andare a ricreare delle strade cittadine per me è il top E Lego è riuscita benissimo secondo me ad unire le due cose, ha creato un set Lego creator expert a tema Harry Potter Il set Diagon Alley ha qualcosa come 5544 pezzi ed è largo più di un metro È diviso in quattro pezzi, quattro modulari, ognuno dei quali è un negozio che va a comporre la via dello shopping più famosa nel mondo dei maghi C'è il negozio di bacchette di Ollivander, c'è il negozio degli scherzi dei gemelli Tiri Vispi Weasley Ma anche la gelateria di Florian Fortebraccio, la cartoleria Scribulus E per finire, come se quello che ho detto fino adesso non bastasse, c'è anche la libreria Il Ghirigoro E il negozio di accessori di prima qualità per il Quidditch C'è anche il piccolo ingressino della Gazzetta del Profeta e tante altre cose da scoprire È veramente un set fantastico, ci sono anche quattro minifigure esclusive di questo set Se ricordo bene sono Lucius Malfoy, Gilderoy Hallock, il fotografo della Gazzetta del Profeta E il gelataio Florian Fortebraccio Adesso non mi è possibile acquistarlo, ma sono sicuro che nei prossimi mesi o l'anno prossimo sicuramente ci riuscirò Il problema è anche trovare lo spazio per metterlo questo set Perché essendo largo più di un metro, io attualmente non ho superfici abbastanza grandi da poterlo ospitare Però se avete la possibilità, secondo me è un acquisto assolutamente azzeccatissimo Ed è un set divertentissimo Legono mi ha chiesto di parlare di diagonali, non ha certo bisogno di fare pubblicità a quel set L'ho voluto fare di mia spontanea volontà perché avevo bisogno di parlarne con qualcuno Procediamo con l'apertura del pacco e andiamo a scoprire cosa mi hanno mandato Ovviamente io lo so già Eccolo qui Ancora non lo vedete E al contrario Ok Tadam E il set 75979 Edvige che consegna la lettera di ammissione alla scuola di magia e strigoneria di Hogwarts E come se non bastasse c'è un meccanismo che girandolo fa sbattere le ali a Edvige Ed inoltre anche una piccola minifigure di Harry e di Edvige Vi faccio vedere tutti i lati della scatola E questo è il retro che mostra le varie immagini del set Ah, da quello che vedo qui dovrebbe anche ruotare la testa Le dimensioni sono 17 centimetri di altezza Dalla testa alla coda sono 20 centimetri E l'apertura alare da ala a ala sono 35 centimetri Quindi sono anche delle belle dimensioni Andiamo subito ad aprirlo e vediamo cosa troviamo all'interno Busta numero 1 Busta numero 4 Busta numero 2 E busta numero 3 Oltre all'immancabile libretto di istruzioni Il tutto si costruirà con 143 pagine Quindi ci metterò un bel po' E questa è una piccola panoramica degli altri set Qui c'è un'altra cosa Credo che siano gli sticker Dovrebbero essere gli sticker da applicare sulla base E non mi resta che procedere col montaggio Ovviamente voi mi vedrete velocissimo E non mi resta che procedere col montaggio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccola qui la nostra Edvige in tutto il suo splendore. Nonostante i pezzi non siano tantissimi, sono poco più di 600, ho impiegato tre orette belle piene per costruirla tutta. Ma piccola scusante, non montavo un set Lego da tanto tempo. Posso dirvi così a caldo che è un set adatto sia ai grandi come me che ai più piccoli. Ovviamente c'è da fare attenzione in alcuni passaggi. Io stesso mi sono impallato alcune volte. E il risultato è assolutamente fantastico. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Intanto parliamo degli sticker che sono per fortuna soltanto quattro. Sono questi due qui sulla busta e il terzo il sigillo di Hogwarts e quest'altro qui su questa targhetta con il nome di Edvige. Gli occhi non sono sticker ma sono pezzi stampati e sono fatti benissimo. La testa può ruotare a destra e a sinistra, anzi in realtà può ruotare totalmente stile bambina dell'esorcista. Guardate che belle le ali e qui le penne possono essere alzate e abbassate a piacimento. Così come quelle che vanno a comporre la coda. Guardate qui. Vi dicevo, guardate le penne che compongono la coda. Bellissimo. E le ali. Ovviamente pezzo forte di questo set e questa maniglia, perché andandola a ruotare, si aziona il meccanismo che permette alla nostra Edvige di sbattere le ali. Guardate che bella. Guardate come sono stati resi bene i vari punti di snodo che danno realismo al battito delle ali. Veramente fantastica. Bella, bella, bella. La nostra Edvige poggia su questa base, color marrone, color legno. Tutto intorno troviamo i colori rosso e oro, ovviamente di Grifondoro. Ciliegina sulla torta di questo set è la minifigure di Henry con tanto di trespolo sul quale poggia Edvige. Essendoci anche una basetta, è possibile applicarla qui sulla base della grande Edvige e questo è il risultato finale. Bellissimo. E assolutamente da mettere in esposizione. La cosa bella di questo set, oltre ovviamente alla costruzione, che è adatto praticamente a chiunque i più piccoli possono giocare, sia con la grande Edvige che con la minifigure di Henry. Ops, tranquilli, non è successo niente. Il piedistallo è stato leggermente rialzato per dare l'effetto del volo. Dicevo, è adatto sia ai più piccoli che possono giocarci, che ai più grandi che possono tenerlo in esposizione e fa la sua figura, credetemi, bellissimo. Penso che andrà lì... no, qui. Ringrazio tantissimo LEGO per questo regalo, mi sono divertito tantissimo oggi pomeriggio. Ho impiegato un po' troppo tempo, però va bene così, mi sono divertito. E spero vi piaccia. Se siete interessati ad acquistarla, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo che partecipo al programma di affiliazione a Amazon, quindi acquistando tramite i miei link, a voi non cambia sostanzialmente nulla, io ricevo una piccola commissione che mi permette di portare avanti questo canale. Se acquisterete tramite i miei link, vi ringrazio. E dopo aver visto Edvige, questo video dedicato al LEGO Harry Potter non finisce qui, perché ho acquistato io stesso un'altra piccola cosa, anzi, 16 piccole cose. Se mi seguite su Instagram già lo sapete, perché ho postato delle foto, ecco a voi le 16 minifigure LEGO Harry Potter che vanno a comporre la serie 2. Ho fatto una piccola furbata con queste perché non ho acquistato le blind bags, ma il set completo su vendiloshop.it. Avevo intenzione di prendere la box per intero con le 60 bustine ed erano circa 3 set completi più altri 12 doppioni, se non sbaglio. Però poi ho visto che vendevano le buste già aperte e quindi il set completo delle 16 minifigure e ho optato per questo. Anche per evitare poi doppioni e roba varia. Comunque vi mostro lo stesso, questa è la bustina che trovate nei negozi di giocattoli ed altri negozi specializzati. Questa viene venduta a 4 euro l'una. E questa invece è la checklist che trovate in ogni bustina contenente le 16 minifigure, i 16 personaggi. Vi mostro le figure velocemente una ad una perché, come in questo caso, sembra una figure semplicissima di Harry tratto dal principe mezzosangue. La particolarità però sta nell'accessorio, quindi nel libro di pozioni avanzate e se lo andate ad aprire, la pagina è totalmente stampata con la maledizione Sec to Sempra. Bellissimo. Proseguiamo con Silente dalla pietra filosofale. Guardate che bello il vestito con i dettagli dorati. Bellissimo. Così come bellissima la minifigure della Felice Fanny. Queste due le mostro in coppia perché sono le figure che preferisco meno dell'intero set, dell'intera serie 2. Sono Ron e Hermione, credo sempre, dal principe mezzosangue e l'unica particolarità che hanno è il bicchiere di burro birra, che sinceramente non so se sia un'esclusiva di queste minifigure o se è già apparso in Harry Potter, questo dovrete dirmelo voi. Nonostante questo sono comunque stampate benissimo entrambe. Figure molto particolare è questa di Luna Lovegood, ovviamente tutta totalmente stampata, pezzo forte e il copricapo del leone che indossa durante la partita di Quidditch. Ovviamente non me le sto mostrando ma tutte le figure hanno una doppia espressione. E anche questa minifigure spacca, unci unci o gripoc per chi legge Harry Potter con la nuova traduzione, bellissima non tanto la figure ma guardate qui la spada di Grifondoro, fantastica. Con annessa una chiave della camera blindata della Gringot, che non guasta mai. E tocca a un'altra coppia, è che coppia Lily e James Potter e sono davvero felice che Lego abbia deciso di realizzarli nella loro versione minifigure. Il pezzo che viene subito all'occhio è ovviamente la fotografia che James impugna, che è la stessa in possesso di Harry. La figura di James è molto bella, così come è bella anche la figura di Lily ovviamente, che ha il piccolo Harry in fasce. L'unica cosa avrei preferito è che Lily fosse rappresentata esattamente come James, con lo stesso outfit della foto. Invece se non sbaglio questo abito con la dominante blu è lo stesso che indossa subito dopo che Harry viene in possesso della pietra della resurrezione. Quindi siamo nella parte 2 di Donina Morte e questa cosa un po' stona con il piccolo Harry in fasce. Ma sono felicissimo di averli in versione minifigure entrambe. Altra minifigure tratta dal principe mezzosangue, Ginny, durante una delle scene dell'Uma Club. Anzi, una cena molto particolare, quella nella quale Harry ha gradito molto il dessert. Ultima coppia, questa volta i combina guai, Fred e George Weasley. Ovviamente non chiedetemi chi è Fred e chi è George perché non lo so mai, neanche quando vedo i film. Se non sbaglio sono tratti entrambi dal calice di fuoco, perché mi pare di ricordare che indossassero questi indumenti. E lo penso anche dopo aver visto il contenuto della valigetta. Se non sbaglio è la stessa che utilizzano per le scommesse durante il torneo tre maghi. Anche se poi quest'altro ha in mano la mappa del malandrino. Quindi non lo so, ma sono due bellissime minifigure. E arriviamo ad una delle mie due preferite, Bellatrix Lestrange, versione prigioniera di Azkaban. Guardate che bella, guardate che belli i capelli, come sono stati resi i riccioli di Bellatrix. Veste ovviamente da prigioniera, targhetta di Azkaban e tanto di manette. Bellissima, mi piace un sacco questa. Altra figura assolutamente particolare è Kingsley Shacklebolt. Guardate che bella, ha il mantello, la sopravveste in tessuto. E guardate il sotto, la veste, la stampa sulla minifigure ha i dettagli in oro. Veramente molto molto bella, così come il copricapo. Ed ecco a voi la seconda mia preferita. Mirtilla malcontenta. Arriva con questo piccolo piedistallo, questo sostegno trasparente che la rende fluttuante. Davvero bellissima. I capelli sono gommati, a differenza delle altre minifigure. Ha doppia espressione, una arrabbiata e una pianimucolosa. Io ho preferito questa qui, pianimucolosa. E come accessorio, niente poco di meno che il diario di Tom Riddle. Ok, è venuto via tutto. Comunque, anche questo, con un pezzo stampato all'interno. Il mio nome è Harry Potter. E la risposta di Tom. Penultima figure, la professoressa Sprite. Anche questa molto particolare. perché estrae la mandragora dal vaso. Guardate che bella, con paro orecchi e tutto il resto. Anche la professoressa Sprite, assolutamente approvata. Ultimo, ma non ultimo per importanza, Neville Pachock, tratto dal prigioniero di Azkaban. Con tanto di libro mostro dei mostri. Dunque, vi ho mostrato le nuove minifigure Harry Potter serie 2. Vi ho mostrato il set Lego di Edvige che consegna la lettera di ammissione a Hogwarts. E direi che il video di oggi a tema Lego Harry Potter si può concludere qui. Nel caso abbiate apprezzato, vi chiedo di lasciare un pollicione all'insù. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Seguitemi anche su Instagram. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!